fermi le braccia ecco dai l'attento l'attento ma sei meraviglioso guarda Renato grazie Renato lui c'ha quella ziolletta lì che avrà 30 anni eh eh ah se vedete guarda eh sì guarda non vai? mi trovo eh no 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 è buonissimo è in brutta acqua nooo mamma mia la vela lì ancora fai tutto quello che vuoi quanto mi ha detto di quella vela? non lo so lo sa Rodolfo è bella che cosa? quanto l'ha pagata quella vela lì? 350 euro lo sai quanto l'ha pagata? 350 euro eh non ti sento 350 euro eh solo poi ha pagato da bere a tutti 400 euro eh 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 ecco lì è una seminuova prima è nel 2004 4 4 4 4